Eccoci nuovo qua, vediamo di finire di massacrare tutti i banditi di sto posto, così, perché mi stanno sulle balle, non ho 10 minuti come al solito ma 7-9, quindi giù di botte, basta strategia, ma sono tante massate a loro. Per direi si, cos'ho, sbrodau, si, massacrarti infatti, scusate, c'è l'una piena. Qua, no è tutto qua, che brutta battuta veramente. Sì, intanto beccati, ma fanno tutti sto verso quando muoiono. Bo, sei brutto anche a te, sono tutti brutti. Qua c'è il capo, magari lo uccido con elefanze. Capo? Dove sei bello? Ah, è vero, più avanti c'è... Allora, prendiamo lo spadone. E rompiamo il culone. Avvicino un pochino lentamente, così... E avete di subire qualche colpo gratis. Alalalala. Sì, tutto qui. Quando sei talmente merda che non ho bisogno di altri colpi. Ma quanta bella gente! Questo è morto in un colpo solo. Merda. Che cazzo dici? Aiaio, questo mi ha fatto male, l'ho sentito. Dov'è che mi sta tirando? Arrenditi, finché sei in tempo. Ah, ma... Sei sciolato in gabbie, bastardo. Che cazzo di sciarci hai che gli stanno facendo un male bestia? Dove va? Dove scappi, merda umana? No! 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 Vuoi dire che cazzo vieni per farmi così male? Vimaldello, oro, frecce elfiche, frecce in acciaio. Dalle frecce elfiche mi facevano così male? Aspetta, che cazzo di arco avevi? Un arco è da... Un semplice arco... Boh! Fallo a capire. Mi curo, poi ho amasso il... Cos'è che hai detto, scusa? Dunque, cazzo di furmi. Ti do qualche colpo gratis da qui, perché io posso e valgo. Dai! Che altrimenti? Oh! Ma l'hai chiesto te? Uh! Tanta luce! Che fai? Scappi, coniglio! In piedi! Ti voglio finire come farebbe un vero Nord. Eh, lo so, non così. Però se è morto così non ci posso fare nulla se non ha attivato la kill. Eh, sei inutile, mico mio. Boh, posso andarmene. Boh, è stato un ischietto passatempo. Non dico vantaggio che mi ha inventato... Di un livello l'arceria. Ia, ia, ia. Uh! Ma chi c'è là? Ma chi sei tu? Sei uno che si prende una frezza nel culo? Ecco chi sei. Mui sì, proprio tu! Ho il tempo una donna. Bella come la cena di primavera. Di primavera? Di primavera qualcuno? Sì. L'orco culturista. Tutti i brutti gli orchi. Anche se le loro femmine mi sa che sono più belle delle femmine elfiche. Credo. Morite, morite, merda umane. E questo? Ma sta zitto. Ma c'è un rubino. Binoru. Possiamo di cura minore. Possiamo di cura minore. Baule. Qua cercano di colpirmi. Va là che salvo. Sì, salvo e... Finiamo qui, dai. Spero abbiate gradito questi quattro video del cassezzo. Per chi vede solo quello, stati quattro video. Dai, vi saluto e alla prossima. Ciao, ciao!